Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey io sono Stefano e oggi vi presento la maglia del Milan per la stagione 21 e 22 la terza maglia nella versione player quella cioè dedicata ai calciatori la maglia tutta nera con le scritte le rifiniture rosse e bianche la particolarità di questa maglia è che lo stemma del club non è termosaldato sulla maglia ma è diciamo così riprodotto nel tessuto e si vede benissimo in controluce il nome del club e il main sponsor sono termosaldati questo è visibile all'interno perché non vi sono cuciture molto bella la trama dove si vede lo stemma del Milan sulle spalle sono presenti queste bande nere il puma sulla spalla e lo sponsor sono termosaldati la maglia è realizzata con la tecnologia dry cell di puma il collo è a giro collo e si vede benissimo il tessuto traspirante tipico delle maglie in versione player dietro al collo è presente finalmente lo stemma del Milan allora cosa ne pensate nella mia personale classifica questa maglia prende quattro stelle io sapete ho un debole per le maglie nere e questa del Milan è veramente ben riuscita poi tra l'altro la maglia di teo hernandez uno dei miei giocatori preferiti è una maglia da avere ora prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ciao io sono alto un metro 75 e peso 70 kg quella che vedete è una taglia large della versione player quella dei calciatori che vedete è una taglia di un'altra versione